Ciao a tutti, perché alcune donne fanno di tutto per conquistare un uomo e poi, una volta che lo hanno conquistato, li interessa meno? Questo in realtà non vale solo per le donne, è una domanda che mi è stata fatta, che ho visto su un gruppo, non vale solo per le donne, vale anche per gli uomini. Ed è una caratteristica di tutte le persone che si agganciano sul desiderio. Chi si aggancia sul desiderio in realtà quando possiede non gli interessa più, gli interessa molto meno, perché ha una parte emotiva che vive e si nutre di desiderio. E noi possiamo desiderare soltanto quando non possediamo. Le persone che hanno questa caratteristica, infatti se noi ci relazioniamo con persone con questa caratteristica, per sedurle dobbiamo sempre tenerle sulle spine, non dargli mai, mai la certezza che ci hanno conquistato. Anzi, dobbiamo sempre, diciamo, rendergli le cose difficili, metterli negli antagonisti, andare con altri, fare un sacco di cose in modo tale che loro sono sempre lì col dire ci sarà, non ci sarà, dove sarà, cosa farà. Perché questo è quello che le tiene vive, è quello che gli dà emotività. Quindi, questo è l'unico modo per coinvolgere questa tipologia di persone. Per riconoscere queste tipologie ci sono diversi modi, comunque sono persone che sono autoattributive, sono persone che, diciamo, si lamentano del fatto che non possiedono ciò che desiderano, non rendendosi conto del fatto che questa lamentela è dovuta proprio al fatto che desiderano quello che non possiedono. E quindi la parte logica si lamenta, perché la loro parte logica vuole possedere, ma la parte emotiva vuole desiderare. Poi si riconoscono un po' dalla comunicazione non verbale, sono logicamente attivi, parlano tanto, ma analogicamente passivi, utilizzano spesso quando parlano dei loro problemi l'ausiliare avere, essere invece dell'ausiliare avere. Insomma, hanno tutte queste caratteristiche. E purtroppo hanno questa situazione che desiderano ciò che non riescono a possedere e quando lo possiedono non lo desiderano più o lo desiderano molto meno. Per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!